amici e amiche carissime bentornati al nostro ciclo di catechesi dedicata a vizia alle virtù giunto alla puntata 33 come gli anni di nostro signore stiamo all'interno della virtù cardinale della giustizia come tutti sappiamo abbiamo credo superato la metà del nostro percorso speriamo e oggi dovremmo affrontare un due virtù molto importanti la seconda e la terza parte della giustizia dopo che abbiamo esaurito la volta scorsa la più importante la prima che ha visto di religione che sono quelle che si chiamano tecnicamente la pietà e poi l'osservanza o rispetto ecco come dire premetto subito che l'osservanza e il rispetto ci permetteranno anche di affrontare un tema di strettissima attualità e quanto mai delicato che quello dell'obbedienza alle autorità e ai superiori allora senza fare troppi preamboli perché altrimenti appesantiamo ulteriormente questo questo ciclo andiamo subito a vedere appunto la seconda e la terza parte integrante della virtù cardinale della giustizia per loro che per loro affinità che si distinguono tra di loro soltanto per alcune piccole sfumature allora la pietà anzitutto va distinta come dire in due dimensioni allora c'è la pietà in quanto dono dello spirito santo no spirito di scienza pietà e timor di dio sono gli ultimi tre donne dello spirito santo ne ho parlato recentemente durante un'omelia quando si parla di quella pietà si intende quella particolare devozione diciamo così nei confronti dell'altissimo quindi in questo caso sarebbe da attrarre nella virtù della religione che rende particolarmente solleciti ben disposti spediti in tutto ciò che ottiene l'onore il culto il servizio di dio in modo particolare la preghiera e le opere di penitenza questa è la persona pia anche durante la sacra scrittura tante volte no c'è il pio che si contrappone all'impio e quindi la virtù del pio appunto è la pietas sotto questo punto di vista o però la pietà si pensi alla pietas dei grandi poemi classici no la pietas di ulisse il suo amore verso la patria quindi allora la pietas consiste nel rendere i doveri di giustizia verso i genitori e la patria con la pietas di ulisse baciola sua petrosa itaca ulisse no per esempio indietro quanto erano devoti l'amor patrio e l'amore verso soprattutto genitori e consanguinei dopo dio vengono i genitori dopo i genitori viene la patria ricordato un tempo no il triplice motto cioè non è che sarebbe mentato da nulla dio patria e famiglia meglio sarebbe dire dio famiglia e patria perché prima della patria viene la famiglia questo è molto importante comprendere queste cose specialmente di di questi tempi e qui si parla di giustizia quindi anzitutto rendere i doveri verso dio poi i doveri verso i genitori attenzione ma anche il contrario i doveri dei genitori verso i figli e poi viene la patria ora qui chiaramente bisogna un pochino questo è un ciclo di catechesi no quindi questa sera ho già premesso che si affrontano argomenti di stretta attualità allora cosa vuol dire che subito dopo dio viene la pietas e la pietas intesa nei nei diritti e doveri interfamiliari soprattutto dei figli verso i genitori ma anche di viceversa punti fondamentali l'educazione dei figli quindi non la decide lo stato la patria la decidono i genitori conseguentemente questo fenomeno di strettissima attualità se per esempio la scuola pubblica quindi la scuola curata dalla patria diventa un ambiente in cui sicuramente insieme a tante cose buone però vengono anche impartiti insegnamenti che io ritengo non adatti a mio figlio o meglio non soltanto io ritengo non adatti ma oggettivamente non adatti si pensi alle grandi tematiche per esempio tanto per fare dei nomi eclatanti dell'educazione sessuale insegnata a scuola cioè in che modo viene insegnata e del gender che io ho letto nei giorni scorsi che ci sono dei progetti in corso per cominciare a sdoganarlo già nel prossimo anno scolastico pensiamo anche inutile nascondersi sotto un dito a la gestione tuttora perdurante delle relazioni scolastiche in relazione e riferimento agli eventi noti di questi ultimi anni e agli obblighi ancora permanenti in quei poveri ragazzini e alle conseguenze che tutto questo produce nel medio e nel lungo termine allora tanto per capire cioè un genitore deve in coscienza davanti a dio mettere e pregarci sopra bene vanno bene tutte quante queste cose sono domande abbastanza retoriche posso io nell'attuale contesto storico culturale nel contesto del cosiddetto stato laico che poi non è stato laico d'accordo perché stato laico ma è stato laicista quindi è stato che considera la religione come fatto meramente privato e la toller in questo senso ma per il resto cioè sono io che do le linee a cui cittadini devono adeguarsi può un cristiano un cattolico stare dentro questo orizzonte senza nessun problema di di coscienza io mi rendo perfettamente conto che questa come dire faccio qualche altro esempio negli anni passati ma adesso un pochino di tempo che dato già su questa materia ma poi negli anni scorsi non c'è stato molto modo perché si stava in periodi in cui fare feste e baldori era un pochino difficile sto parlando per esempio della problematica halloween sapete quante volte negli anni passati se la telefonate mail è padre meglio che ci posso fare sì io so contrario ad halloween però a scuola fanno festeggiare halloween a mio figlio io adesso non vorrei dire degli sfrondoni insomma perché non so come funzionano le cose oggi ma spero che funzioni non ancora così ai miei tempi se mio padre e mia madre decidevano per due tre giorni di non mandarmi a scuola per qualche buona motivazione io rimanevo a casa dopodiché si firmava la giustificazione sono rimasto a casa per motivi familiari tenuto cioè giustificazione di un minorenne almeno ai miei tempi adesso qua con tutto quanto questo accelerazione veramente io mi comincio a sentire un vecchierello non mi sento nell'animo ma purtroppo sono passati 40 anni rispetto a quanto io dalla scuola che ero che ero un minorenne sembra ieri però sono passati e la giustificazione aveva come razio la certezza da parte della scuola che un genitore sapesse che il figlio non c'era andata a scuola per cui giustificazione dei tempi miei erano motivi di salute o motivi familiari basta se stai a letto a casa con la febbre dovevi fare una visita oppure se dovevi per altre motivazioni motivi familiari quindi cioè sì sì ho capito la scuola ma c'è qualche legge che vieta a un genitore che in coscienza non vuole che il suo figlio sia come dire indottrinato in relazione a questa festa chiacchierata e controversa che non è solo una carnevalata americana adesso non voglio certamente parlare in questa puntata di di halloween poi un genitore dire benissimo fanno la formazione e mio figlio resta a casa punto allora e se non si trovano risposte perché qui c'è tutta la problematica pensiamo no un tempo i partiti cosiddetti cattolici che stavano in politica combattevano delle buone battaglie tutte perse però però bisogna combatterle per esempio sulla sulla parificazione delle delle scuole perché se ci sono delle scuole cattoliche e io sono un cattolico voglio mandare mio figlio lì e non c'ho chiaramente 10 mila euro adesso non dico una cifra tanto per dire non ho l'idea di che cifre ci sono perché non faccio il papà non faccio la mamma quindi non non lo so però so che la scuola privata si paga allora se andare alla scuola pubblica mi costa che ne so 100 euro l'anno di tasse e andare alla scuola privata me ne costa 10 mila diretta è chiaro che dove sta qui la libertà di educazione non esiste perché io se io non ce l'ho tutti quanti quei soldi devo per forza mandare mio figlio alla scuola pubblica ma così il pluralismo nel bene nell'istruzione non è affatto garantito d'accordo sta cominciando a prendere piede in diverse parti d'italia la homeschooling allora sicuramente quello che ci deve restare non è mio compito risolvere i problemi perché chi ha la vocazione al matrimonio quindi ha il compito e il dovere della paternità della maternità deve poi prendere delle decisioni per i propri figli ma deve avere la coscienza orientata la coscienza orientata significa si sappia che la pietà intesa come doveri dei figli verso i genitori e dei genitori verso i figli viene subito dopo la religione e prima degli obblighi nei confronti della patria punto quindi questo perché la coscienza morale sia libera e ben formata nei giudizi che poi deve formulare ok ho attenzione che verso verso quindi genitore la patria l'uomo immediatamente debitore scrive santo omaso ovviamente dopo dopo dio ed è importantissimo tenerlo presente questo e quindi questi obblighi i doveri di pietà comprendono l'ossequio l'onore il rispetto e l'obbedienza e in caso di necessità in caso di necessità particolare i servizi per esempio per un genitore che si trova in difficoltà economica il dovere del sostentamento da parte dei figli la visita e l'assistenza in caso di infermità ecco in ogni caso attenzione c'è sempre il primato di dio che autorità superiore sia a genitori sia evidentemente ancora di più alle leggi dello stato o attenzione perché c'è un altro vezzo che non va bene perché i genitori di oggi ahimè a volte peccano di una certa debolezza allora un genitore ha un'autorità reale ed effettiva sui figli e non deve per esempio permettere per nessun motivo per quanto mi riguarda che i figli gli manchino di rispetto oltre che di obbedienza quando ci sono delle mancanze gravi di rispetto un genitore deve intervenire non deve cominciare a pensare diciamo ma lasciamo perdere se no sono superbo allora se ti manca di rispetto che ne so un tuo pari uno che incontri per strada o un collega di lavoro o anche un superiore di lavoro tu se vuoi seguire le orme di cristo crocifisso ti umili e accetti di farti offendere di farti mancare di considerazione di riguardo e altre cose tutta grazia e tutta gloria se sei capace ma nei confronti di un figlio non è che tu cioè che diceva il mio figlio mi ha mi ha umiliato quindi mi ha mandato a quel paese oppure mi tratta come una pezza da piedi vabbè un'umiliazione che offro al signore è no è no attenzione è chiaro quando un figlio ha 20 anni e tu è abituato così che c'è fai il vento ma i figli quando sono cioè vengono consegnati a un genitore che sono veramente come diceva aristotele tabula rasa sono delle spugne sono delle cere delle tavolette cerate su cui si può scrivere facilmente c'era morbida perché dipende da come tu lo abitui allora se metaforicamente parlando la prima volta con figlio si permette di mancare di rispetto un genitore qualcuno ecco gli fa qualche dritto in top spin rovescio in top spin chiaramente nel posto dove la schiena cambia nome senza come dire senza comprometterne l'integrità fisica è un discorso perché se non si fa niente quello imparerà questa cosa cioè non dobbiamo autorizzare le mancanze di rispetto neanche io posso farlo solo che c'è una differenza tra me e un genitore che io che faccio cioè se qualcuno mi manca di rispetto io posso farlo notare mancare di rispetto a un prete significa per esempio circostanze qualcuno che viene e mi chiama per nome io per non mi faccio chiamare da nessuno e non mi chiamo neanche da solo ma non perché sono superbo se qualcuno vuole pensare questo pensi pure ma perché io ho il dovere di esigere il rispetto della sacralità della persona mia in forza del ministero che mi ha conformato a cristo capo e pastore per cui un prete non è semplicemente un uomo anche se evidentemente appartiene alla specie umana ma è il rappresentante il ministro di cristo dovunque si trovi e attenzione non dobbiamo neanche autorizzare mancanze di rispetto in maniera implicita questo vale per i preti ma vale anche per i genitori nei confronti dei figli faccio subito un esempio ecco perché così importante anche l'esemplarità dei rapporti tra i genitori se tuo figlio vede che tu tratti a pesci in faccia il tuo coniuge rimaniamo sul neutro così senza dire maschio femmina per esempio romandi a quel paese questo non autorizza tuo figlio a mandare te a quel paese però capisci che crea una condizione balorda perché se un giorno che tuo figlio ti manda quel paese siccome ti sei permesso di mandarmi a quel paese tuo figlio certamente mancando al dovere di essere sottomesso ma non alla verità ti dirà sì e tu perché mi è andato da quel paese mio padre o mia madre a seconda di chi è stato il colpevole perché lo fai con lei o con lui capiamo no perché i figli vedono quello che respirano dai dai genitori e ricordiamo sempre che l'educazione più importante si dà con l'esempio come potrei io dire ad un parrocchiano per esempio non esprimerti mai in termini volgari se io fossi se mi sentissi dire le parolacce è inutile dire fai quel che prete dice non fare quel che prete fa questo è vero questo qui nel senso che ciò che il prete dice prescinde dalla sua autorevolezza e dalla testimonianza che è capace di darne però indubbiamente lo condiziona lo condiziona come facci a pregare la sobrietà e la temperanza se divento una una balena notoriamente incredibilmente obesa non lo posso fare come posso a predicare la sobrietà se ci avessi una macchina che costa cinquantamila euro come fai quindi dobbiamo fare estrema attenzione sotto questo punto di vista cioè nel senso che noi il rispetto lo dobbiamo chiedere i genitori mi permettono di dire non è che dovevano esitamente chiedere lo devono esigere perché hanno la possibilità specialmente quando i figli sono 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 piccoli di esigerlo la situazione di un prete oggi vi assicuro che abbastanza drammatica perché non c'è più niente di quello che c'era in un contesto arcaico quindi assolutamente oggi vi dico che un prete si trova in un posto dove deve presumere che lo tratterà una pesce in faccia e dovrà cercare di conquistarsi un minimo di onorabilità e di stima da se stesso perché altrimenti non solo fino a nessuno non solo non solo fino a nessuno ma ci si ritira in diritto di io ho visto in tante circostanze insomma di tutto e di più va beh passiamo adesso all'osservanza e rispetto ecco l'osservanza e rispetto secondo santo ma la terza parte della virtù cardinale della giustizia è l'esercizio dei doveri di giustizia verso le persone oggettivamente attenzione oggettivamente degne di onore perché rivestite di autorità e si attua nel circondare queste virgolette quindi proprio una citazione sua di referenze d'onore tutte le persone eminenti allora su questo bisogna fare a cui dobbiamo entrare in tutta una serie di distinguo allora qui si tratta di persone oggettivamente degne di onore semplicemente perché rivestite di autorità cosa significa questo qui allora che evidentemente per molti questo oggi non ha nessun valore non ha nessun significato perché la stragrande maggioranza delle persone specialmente tra l'autorità diciamole così civile non credo che creda mi si perdoni il gioco di parole che la sua autorità viene da dio in quanto autorità noi credenti però sappiamo che ogni autorità evidentemente legittimamente esercitata e soprattutto legittimamente occupata d'accordo perché poi sono gli usurpatori che quelli non c'hanno un'autorità che ricevono da dio perché l'hanno usurpata ma quando una persona si trova in un posto di autorità in maniera legittima quindi ha seguito l'iter che l'ha portato lì che può essere che ne so l'iter democratico per quanto riguarda le istituzioni civili l'iter delle nomine per quanto riguarda le cariche ecclesiastiche quindi che non se ne è andate insomma a estorce non ha fatto come dire il carriarista che ha cercato di fare in tutti i modi possibili ecco in ogni caso se le circostanze esteriori che portano una persona a rivestire in un ruolo di autorità sono oggettivamente regolari e leciti allora quella persona per il fatto stesso di essere un'autorità merita onore e rispetto attenzione anche se nell'esercizio di detta autorità non sia osservante della giustizia della rettitudine eccetera perché l'onore è dovuto in maniera oggettiva questo era quello che per esempio testimoniavo san francesco d'assisi facciamo sempre un po d'esempio per far capire quando gli portavano provocatoriamente degli esemplari scandalosi di clero c'erano anche a quei tempi non ci sono solo oggi e quando san francesco li vedeva faceva dei gesti eclatanti quindi baciava le mani gesto tipicamente francescano o addirittura è famoso il caso dello zoccolo del cavallo insomma no di un prete notoriamente vizioso che fu portato a san francesco d'assisi dicendogli ah adesso vediamo se tu stai sempre a dire i preti 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 ma lo sai questo che fa destra sinistra lui ha preso e gli ha baciato lo zoccolo del cavallo perché a me non me ne importa niente di quello che fa io so che lui sale sull'altare e offre il sacrificio di cristo e per questa dignità che ha io non voglio sapere nient'altro che questo io continuo a onorarlo se la coscienza è sporca davanti a dio c'ha molto di cui rispondere saprà nostro signore dove come e quando se verissimamente giudicato quindi attenzione perché l'onore che si rende alle autorità non è la venerazione perché la venerazione si conquista in forza del merito si verita si si vennerano le persone meritevoli ma si onorano le persone che oggettivamente tengono in maniera evidentemente con gradazioni differenti il posto di dio questo se lo dobbiamo mettere in testa tutti adesso vedremo se le autorità esercitano malamente il loro compito se danno ordini sbagliati come si deve come ci si deve comportare perché oggi amici sia a livello civile che ecclesiastico il concetto di obbedienza è del tutto quanto come dire vogliamo dire un pochino travisato o addirittura a volte manipolato vedremo che sant'ommaso ci darà una bella mano per entrare in questa virtù importantissima perché l'obbedienza cioè la vita di nostro signore gesù cristo e della madonna è stata un'obbedienza eroica continua si è fatto obbediente fino alla morte alla morte di croce prese la condizione di didulos di schiavo no scrive san paolo nel famoso passo della lettera ai filippesi il cosiddetto inno alla kenosi no quindi che l'obbedienza poi tra l'altro cioè la rovina dell'umanità è partita da una disobbedienza fatta dai nostri progenitori il costitutivo formale del peccato è sempre la disobbedienza a dio quindi attraverso la trasgressione della della sua legge quindi quanto è importante agli occhi dell'altissimo la virtù dell'obbedienza tanto anzi di più però come vedremo ci sono dei limiti oggettivi perché l'obbedienza di ve è autentico se possiamo dire in prima battuta solo nella misura in cui è un'obbedienza che non mi porta fuori dalla volontà di dio perché un'obbedienza di questo genere non sarebbe mai da praticarsi ecco adesso dovremo soltanto vedere i criteri ecco che sono chiamati in causa con cui giudichiamo queste cose ora anzitutto nei confronti dei superiori quindi per stargli rispetto ed onore comporta due atti andando seguendo il ragionamento di sant'ommaso anzitutto quelli esterni quelli esterni con cui si esprime l'onore dovuto a un superiore quindi come lo si tratta io non posso prendere che ne so i parlamentari per esempio si chiamano onorevoli io non potrei andare davanti a un parlamentare e chiamarlo per nome parlamentare si chiama onorevole poi che non sia onorevole per quello che fa sono fatti suoi d'accordo così come il nome formale di un prete è reverendo cioè persona da riverire poi se quella persona non è perché da riverire per l'abito che porta e per l'ufficio che occupa evidentemente dovrebbe essere poi da riverire anche perché come c'è la raccomandazione che vige la vita sia conforme e adeguata all'abito che porta ma questo non ha non 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 ci esime dall'obbligo del rispetto esterno fino a quando un'autorità occupa il ruolo di autorità mentre da un punto di vista interno l'osservanza e il rispetto verso i superiori comporta il dovere della obbedienza che è indubbiamente il sacrificio più grande perché è il sacrificio della propria volontà vengono dati degli ordini vengono emanate delle disposizioni delle leggi io sacrifico la mia volontà per obbedire all'autorità allora e qui cominciamo a entrare subito nei dettagli allora l'obbedienza alle autorità è sempre per definizione relativa cioè mai assoluta l'obbedienza assoluta obbedienza assoluta significa sempre dovunque comunque senza se senza ma senza distinguo si fa punto e basta a chi è dovuta questa obbedienza a dio solo perché a dio che non si sbaglia non può sbagliare e perché è la come dire è l'autorità delle autorità a cui tutti gli altri devono essere subordinati tutti quindi l'obbedienza ai superiori cosiddetti quindi cioè alle autorità non è mai assoluta ma è sempre relativa e condizionata certamente anche se comunque effettiva e reale non è sminuita o esautorata o eliminata no ora quali sono i limiti oggettivi ed inviolabili dei comandi dei superiori cioè quelli dinanzi ai quali se dovessero essere trasgrediti noi non solo che possiamo ma dobbiamo non disubbidire attenzione ma ubbidire a dio quindi quando in presenza di una di queste cose si viene tacciati di disobbedienza bisogna imparare a difendersi facciamo vediamo i limiti tre il primo e più importante è la legge di dio che mai in nessun modo può essere contraddetta o contrariata la legge di dio l'esempio più famoso che si può fare di questo famosissimo furono i gerarchi nazisti che al famoso processo di Noriberga si difesero dagli capi di imputazione i capi che avevano dicendo ebbene noi che abbiamo fatto il fuhrer ci aveva detto di fare queste cose e noi abbiamo impedito gli ordini ecco ma quando un ordine questo è un caso macroscopico evidentemente va contro la legge di dio tu non puoi uccidere una persona così a tiro a bersaglio la vita umana è sacra quindi secondo la dottrina tradizionale della chiesa la vita umana è sacra ma che non è una cosa assoluta perché la legittima difesa è lecita le forze dell'ordine possono certamente non andare a fare il far west ma in caso estremo possono intervenire anche a rischio di togliere la vita a qualcuno nel caso che sia una guerra la cosiddetta guerra giusta e difensiva in guerra purtroppo si fanno alcune cose quindi però la vita umana innocente è sempre un atto intrinsecamente cattivo farlo facciamo un esempio perché nella legge dell'aborto fu prevista l'obiezione di coscienza perché non è che un medico si può sciacquare la coscienza recente c'è la legge dello Stato c'è la legge dello Stato io che faccio adesso la devo mettere in pratica e no non la puoi mettere in pratica perché quella legge dello Stato conferisce dei diritti che se esercitati sono lesivi del diritto sovrano assoluto inalienabile di Dio sulla vita è Dio che decide se quando come e dare una vita quando comincia dove comincia e quando finisce sto facendo questi esempi macroscopici per cui in nessun caso in nessun caso il superiore può pretendere l'obbedienza qualora vada formalmente contro la legge di Dio questo è un caso diciamo abbastanza facilmente individuabile non è tanto difficile però ci sono altri due limiti il superiore non può e non deve travalicale o pretendere di andare contro un'autorità superiore che ovviamente di nuovo è Dio in primis ma anche autorità più grandi di lui non si può e terzo deve rimanere nei limiti della propria autorità cioè può dare comandi solo nelle cose in cui il suddito gli ha realmente sottoposto il soggetto e qui facciamo subito un esempio no un pochino ecclesiastico per far capire un'autorità cosiddetta di foro esterno per esempio il vescovo per esempio il rettore di seminare per esempio anche il parroco nei confronti di un cosiddetto suddito non può dare un ordine che invada il foro interno allora che cosa significa se io faccio una catechesi posso dire alle persone sarebbe una cosa molto credita al cielo confessarsi una volta a settimana io non potrei prendere un parrocchiano e dirgli tu ti devi confessare una volta a settimana e te lo ordino perché tu sei un mio parrocchiano perché nelle cose attinenti al foro interno l'autorità di foro esterno non ha competenza se la persona avesse il confessore o il direttore spirituale lui in forza del rapporto di fiducia nato con il diretto potrebbe dire senti tu ubbidisci e confessati una volta a settimana ancora di più se una persona e questo è sempre possibile farlo si fosse legata a qualche obbedienza liberamente o con qualche voto d'accordo quindi questo è un altro ambito che limita ora c'è un'obbedienza perfetta che abbraccia la sottimensione al superiore anche nelle cose in cui sarebbe lecito decidere per conto proprio attenzione qui però si entra nell'ambito della cosiddetta obbedienza religiosa cioè quando si fa il voto di obbedienza professando i consigli evangelici che cosa si fa fondamentalmente si rinuncia all'esercizio della propria libertà sottomettendosi alla volontà del superiore anche nelle cose in cui sarebbe lecito decidere per conto proprio fermo restando ovviamente sempre disordinate ed è peccato l'obbedienza nelle cose illeciti ora gli autori attenzione discutono da sempre antichi e moderni circa i limiti della licita dell'obbedienza e questo è un argomento di strettissima attualità quando il comando di un superiore non sia oggettivamente illecito cioè non violi uno dei tre requisiti che abbiamo appena nominato ma sia percepito dal suddito come soggettivamente contrario a quello che Dio vuole da lui ora la regola ordinare dei maestri di spirito è quella di sottomettersi al superiore lasciando a Dio il compito di giudicare un eventuale ordine contrario ai suoi voleri però qui capite che si entra in un ambito estremo estremo ora una cosa che appare essere specialmente a livello ecclesiale sempre da evitarsi sono le forme di ribellione manifesta formale e generalizzata nei confronti di una autorità per noi cattolici l'autorità rimane sacra poi l'autorità come dire conferita attraverso quella che si chiama tecnicamente la sacra gerarchia rimane sempre oltremodo sacra per cui quando ci si trovasse dinanzi ad un ordine che sia o che si presume sia illegittimo il modo con cui ci si relaziona con questa cosa è sempre quello corretto cioè si indicano si procede per le vie come dire ordinarie con cui ci si oppone ad un ordine che si ritiene illegittimo faccio subito un esempio si ricorre per esempio all'autorità superiore se si vede un ecclesiastico X procedere in un modo che si percepisce come 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 malvagio come non fatto bene o anche come oggettivamente fatto malamente no pensiamo a tutto un mondo che allora si ricorre all'autorità superiore si parla primo col diretto interessato ordinariamente dopodiché si ricorre all'autorità superiore se l'autorità superiore come dire avesse a sua volta emanato provvedimenti discutibili si ricorre all'autorità superiore ancora certo se l'autorità superiore ancora non interviene a quel punto come scrive San Pietro San Paolo adesso non mi ricordo chi è è meglio subire un'ingiustizia attenzione qualora non si vada contro oggettivamente la legge di Dio quindi trasgredendola formalmente in quel caso non ci stanno santi evidentemente è preferibile subire un'ingiustizia sotto questo punto di vista soggettiva piuttosto che causare scandalo con forme di ribellioni manifeste oggettive questo è in questo delicatissimo questo capite subito bene che è un che è un argomento veramente veramente al fulmicotone il problema grande cioè quindi abbiamo già visto che i maestri di spirito danno come regola generare la sottomissione nei casi di percezione soggettiva di difformità di una certa indicazione da quello che Dio vuole dalla persona però ripeto gli argomenti sono molto complessi su questa materia si pensi per esempio al caso storico emblematico e drammatico di una Santa Giovanna d'Arco Santa Giovanna d'Arco è emblematico insomma al riguardo no? e è chiaro che in questo caso la formazione della coscienza di imparare a agire secondo coscienza di imparare soprattutto a pregarci sopra su qualcosa è fondamentale è fondamentale è fondamentale importantissimo ecco quindi importantissimo e quando la coscienza come dire avverte che una cosa non è da farsi e lo avverte e lo avverte non perché nella mia coscienza e questo dobbiamo imparare a distinguerlo perché è molto difficile in certe circostanze amici amiche carissime discernere la voce la voce della coscienza perché nella voce della coscienza parla Dio cioè se tu nel fare una cosa ti senti male anche se quella cosa ti viene in qualche modo imposta da un superiore se proprio ti senti male e ti senti male perché quella cosa tu senti in coscienza che non si può fare che facciamo diverso è il caso in cui quella cosa proprio non la posso fare non la voglio fare perché c'è la mia volontà umana quindi e in quel caso è meritorio sottomettersi quindi rinunciare alla tua volontà umana qual è il confine qual è l'ambito eh figlioli miei cari qui non ci sono come dire ci sono indicazioni qui le abbiamo ricevute d'accordo però bisogna anche imparare a fare tanti discernimenti e qui bisogna sotto questo punto di vista la vita di preghiera la vita di orazione ma anche la formazione che noi dobbiamo avere perché le nostre coscienze devono essere formate su tante cose capire anche per esempio quando sia dinanzi ad un vero e proprio ordine da parte di un superiore oppure no cioè una cosa che viene per esempio raccomandata non è un ordine e se io nonostante che sia raccomandato faccio il contrario non sto trasgredendo un ordine se una cosa non viene data in termini formali ma semplicemente espressa di nuovo in termini di auspici o di divulgazioni non c'è nessun obbligo e qui parlo anche dell'autorità canonica per esempio il caso che io conosco insomma io sono Petri di Cesano se un vescovo intende dare delle disposizioni vincolanti per la propria di Ocesi non può semplicemente parlarne durante una riunione del clero o mandare una mail ai suoi preti deve fare un decreto se mette nero su bianco la sua volontà in un decreto allora lì non se ne parla più ma se questo non c'è fino a quando questo non c'è mi spiego questo vale per tutte le autorità comprese quelle là più alte cioè e su questo dobbiamo fare attenzione se per esempio un'autorità esprime un proprio parere personale in un contesto pubblico privato che sia quello deve essere ritenuto come parere proprio personale perché se l'autorità vuole farlo uscire dal proprio parere personale e trasformarlo in altro quindi in un intervento autorevole o un intervento magisteriale o cose di questo genere deve usare le forme proprie gli strumenti propri anche le forme giuridiche proprie d'accordo a scrivere ecco quindi questo è un ambito enorme immenso ed è importantissimo ripeto in questi casi avere una coscienza formata bene perché la coscienza è sempre l'ultimo giudice da sottoporre ovviamente a Dio solo e attenzione non soltanto da sottoporre a Dio solo ma nella coscienza parla la voce di Dio bisogna imparare a distinguere bene queste cose se tu fai una cosa e senti profondamente che quella cosa è sbagliata e una volta che tu la fai nonostante che ci sia anche un ordine che copra quella cosa e tu facendola stai male ti senti che non hai fatto la cosa giusta ti senti che non hai fatto la cosa buona noi non possiamo sfuggire da questo e ne possiamo tu puoi anche provare a tacitarti la coscienza sto dicendo queste cose per far capire a chi le avesse vissute quando dinanzi ad una certa situazione sta come dire intimandoci quindi rimordendoci la coscienza e non è un atto di ribellione della nostra volontà umana che non vuole piegarsi o sottomettersi a una cosa che non condivide il confine questo qui dobbiamo imparare a discernerlo perché non è semplice allora se tu fai quella cosa e continua a sentirti male continua a dire questa cosa non avrei mai dovuto farla oppure non si può devo devo smettere devo interrompere perché attenzione l'ultima istanza è sempre la coscienza e noi contro la coscienza non possiamo andarci mai non possiamo andare contro la nostra coscienza né possiamo trincerarci a volte succede un altro fenomeno specialmente perché c'è il direttore spirituale o il confessore e questo riguarda sia materie illecite dove si entra adesso faccio faccio dei esempi sia nelle materie lecite faccio un esempio se ci si imbatti in un confessore o in un padre spirituale di non buona dottrina e si dice ma io posso avere rapporti prematrimoniali ecco dice ma vabbè basta che sei innamorato non c'è nessun problema davanti a Dio nessuno può dirti una cosa di questo genere nessuno perché questo non è vero perché va formalmente contro il sesto comandamento oppure ho avuto il terzo figlio e il terzo cesario posso usare la contraccezione ebbè se il medico ti ha detto che non puoi avere più figli certo questo è un caso in cui potessi usare la contraccezione nessuno può dire una cosa di questo genere perché la contraccezione è sempre intrinsecamente cattiva se si viene a presentare un problema di questo genere nessuno dice che tu fai finta di niente ma dovrai perseguire questo scopo quindi di evitare di incorrere in una gravidanza con mezzi leciti perché la contraccezione lecita non diventa mai allora che cosa succede se una persona si trincera dietro il me l'ha detto il prete me l'ha detto il professore se sta andando contro la volontà di Dio specialmente in questi casi vedrà che ci prova a tacitarsi la coscienza ma non starà mai tranquillo ora questo può accadere anche nell'ambito del lecito dove non ci sono delle demarcazioni così forti quindi delle situazioni così chiare così limpide ho un problema chiedo consiglio mio mario mi ha detto imperativamente fai così io mi oriento a fare così anche se nel cuore eccola facciamo un esempio di cose insomma che pastoralmente possono essere accadute una persona si trova in un movimento ecclesiale questo è un classico d'accordo si trova in un movimento ecclesiale x, y, z a un certo punto siccome tutte quante le realtà che vengono dagli uomini possono anche essere riconosciute tutti i riconoscimenti possibili immaginabili avuti dalla chiesa oppure anche non avuti d'accordo a un certo punto la persona entra un pochino in crisi perché vede certe cose comunque si comincia a sentire un pochino stretta dentro questo movimento ecclesiale ma che faccio allento rimango lascio una tentazione questa qui che faccio la prima cosa è che viene tentata una persona di chiedere consiglio allora innanzitutto cioè se si chiede consiglio di una persona di una persona che è per esempio immersa in quel movimento fino al collo ma che consiglio ti darà ti darà rimani qui dentro fino alla morte se buce d'accordo ecco in ogni caso anche uscendo da questa situazione si potrebbe avere un consiglio esplicito fai questo non fare quest'altro rimani esci ora personalmente nel corso della mia esperienza pastorale chi mi segue ormai lo sa io ho maturato questa posizione non è compito di un ministro di Dio decidere per gli altri quindi pretendendo di sollevare una coscienza altrui da eventuali problemi anche perché questo non sarà perché se io do un consiglio sbagliato rimani nel movimento che quello è la volontà di Dio per te quella persona magari Dio vuole che se ne vada però siccome glielo ho detto io continua a starci e quella sta male continua a sta male perché sto male me l'ha detto il mio padre spirituale dico sta bene zitto mi disci rimani qua punto e basta allora in questi casi dove non c'è una palese manifestazione della volontà di Dio tu però lì c'erai i superiori del movimento sicuramente che all'interno del movimento vedete i limiti hanno comunque un potere legittimo cioè perché ciò che attiene alla vita del movimento la disciplina delle cose che lì dentro avvengono hanno un potere che gli ha conferito sicuramente dagli statuti o dall'organizzazione giuridica che hanno però che tipo di potere io devo obbedire ai superiori del movimento gli devo obbedienza sì ma entro che limiti gli devo obbedienza in questo senso se alcune dinamiche alcune alcune prassi alcuni modi di procedere all'interno di quel movimento sono stati stabiliti essere questi tu non puoi dire sì a me questi non mi piacciono facciamo altro perché prendi la porta e te ne vai cioè questo è un ambito diciamo così dove le autorità hanno il potere che vuoi tu abbiamo deciso questo qua i nostri statuti sono approvati dalla chiesa nessuno ci ha detto niente fai quello che ti abbiamo detto e qui non ci piove ma non è che se quell'autorità perché che cosa ti dirà quell'autorità non te ne andare mai da qui perché se te ne vai via da qui sicuramente non fai una cosa buona se noi ci pensiamo è normale che dica questo qui perché se quella persona che ha quel ruolo dell'autorità e si trova lì dentro vuol dire che ci crede è normale che sia così non ti dirà mai vattene ecco ma allora scruvo di coscienza io sono tenuto ad obbedire all'autorità che mi dice stai buona l'autorità del movimento e rimani qui oppure all'autorità del padre spirituale che mi ha detto rimani qui oppure all'autorità del padre spirituale che mi ha detto rimani qui o meglio vattene quando io non sono ancora tanto sicuro che sia volontà di Dio che me ne vado non l'ho ancora maturato forse mi ci vuole un pochino più di tempo ci devo pregare un pochino sopra allora su tutte quante le questioni controverse dato che oggi sono diverse io ritengo che sia importantissimo primo formare le nostre coscienze è secondo importantissimo da parte di un ministro di Dio aiutare la persona ad imparare a formulare giudizi di coscienza perché nella coscienza parla l'altissimo e se l'altissimo parla e si manifesta è sempre il giudice di ultima istanza e nessuno può essere mai e per nessun motivo è costretto a fare una cosa contro coscienza nonostante eventuali imposizioni dell'autorità se posso fare un esempio sperando di non scandalizzare a nessuno sono stati in questi anni e pare che perdurino tuttora i problemi legati alle prassi liturgiche post-covid-19 specialmente per alcuni la comunione sacramentale io non ho mai detto esplicitamente spero o comunque non è la mia intenzione farlo a qualcuno che faccio qui la comunione bisogna forse prenderla in mano ma io nel cuore non mi piace fare questa cosa qui che faccio allora questo è proprio il classico esempio d'accordo allora un'obbligazione di questo genere in caso che ci fosse un'emergenza reale sarebbe certamente la compressione di un diritto soggettivo di un fedele stabilito dal diritto canonico d'accordo perché l'accostarsi ai sacramenti nel modo più gradito è un diritto soggettivo del fedele ora questo chiaramente può essere compresso a tempo determinato tanto è vero che come ben sappiamo dal primo di maggio se non ricordo male la stessa conferenza episcopale da questo momento rimane caldamente raccomandato ma chi volesse adesso deve essere rispettato quindi già questo è una norma generale no ora quella cosa non è intrinsecamente cattiva d'accordo perché altrimenti dovremmo scomunicare la chiesa d'accordo o anche la prassi dei primi secoli quella cosa però può per qualche coscienza essere inammissibile io Gesù Cristo con le mani non lo tocco io lo so che non è detto che succeda ma non voglio rischiare che mi cada un frammento che si compia un sacrilegio io avverto questa cosa come indegna della maestà e dell'adorazione dovuta a Dio e non ce la faccio a farla una persona che pensa in questo modo deve essere rispettata e non deve essere per quanto mi riguarda colpevolizzazione ah la chiesa ha deciso di fare questo qui e tu se fai questo sei disobbediente alla chiesa e no e no e no e no e no no e anche qui mo chiedo al padre spirituale fai la comunione che è la cosa più importante del mondo vai non ti preoccupare adesso la chiesa chiede questo e fa quello che devi fare allora io col cuore a pezzi vado a prendere l'oste con le mani dopodiché torno a posto e mi sento male di promare il tuo padre spirituale sto facendo così oppure ci sono state altre dinamiche nate siccome io non voglio privarmi di questo bene cerco di trovare giustificazioni non semplicemente vabbè la chiesa adesso chiede di fare questo qua non ci stanno altri modi lo faccio punto e basta molto più rispettabile che fa una cosa di questo genere ma siccome qualcuno ha comunque delle ha avuto perché si si parla di parlare al passato perché adesso queste cose non dovrebbero esistere più problematiche di coscienza per questo che ne parlo problematiche di coscienza si sono andate a cercare i peggiori escamotage di questo mondo andandoli a a prendere tutti quanti per tacitarsi dalla coscienza ma le persone coinvolte se sono sincere e che hanno fatto questa cosa tranquille non ci sono state mai perché quando noi andiamo contro coscienza non troveremo mai la pace fino a quando siamo contro coscienza voglia a dire a raccogliere pareri o cose o circostanze o fatti perché se un'anima è buona e vuole fare quello che Dio vuole e desidera questo Dio delicatamente però gli parla e la prova che noi stiamo fuori della volontà di Dio è che non stiamo sereni non stiamo tranquilli e la coscienza non ce la potrà citare nessuno né dal di fuori attraverso la sostituzione al nostro giudizio né dal di dentro attraverso il ricorso ad una montagna di autogiustificazioni che non sono altro che impalcature che la nostra volontà umana siccome vuole per forza una cosa nonostante che io percepisca che in queste condizioni non la posso ricevere ma la voglio per forza devo trovarmi una impalcatura una giustificazione allora capite che dentro queste materie qui stiamo parlando di giustizia ecco perché diciamo sempre tenete presente che la prima forma di giustizia la prima cosa che si deve fare che siamo tenuti a fare è quello che Dio vuole da un punto di vista oggettivo è espresso nella sua legge ma da un punto di vista soggettivo è espresso dalle istanze della nostra coscienza che quando non sono strampalate quindi quando la nostra coscienza non ci porta perché è proprio malformata cioè io non posso dire in coscienza devo abortire perché non posso tenere un figlio ma questo 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 questa non è la la coscienza di cui si parla nel cristianesimo no ecco ma quando la coscienza è rettamente formata e ha delle esigenze qui figlioli miei cari magis parendum deo quam minibus scrissi San Pietro bisogna vedere a Dio piuttosto che agli uomini evidentemente pagando le conseguenze di ciò che è che la coscienza ci urge spero di essere stato non dico troppo chiaro ma esaustivo ecco mi sono chiaramente dilungato un pochino su queste cose perché come capite non solo gli esempi che ho fatto se ne potessi essere si sarebbero potuti moltiplicare ma ecco in tempi complicati e delicati come quelli che il Signore ci ha dato comunque la grazia di vivere è importante stimolare formare le persone perché possiamo chi lo desidera rimanere sempre dentro la volontà di Dio senza fare colpi di testa o alzate di scudi ma anche senza mai andare contro le esigenze profonde della nostra coscienza bene ci vediamo se di cuore la settimana prossima che Dio sempre li benedica e la Madonna sempre li protegga grazie a tutti grazie a tutti